La runa del crocevia. Con questa runa diamo inizio a una serie di altri simboli impegnativi. Il crocevia nel suo significato più elementare è l'opposizione esplicita o sottile. Qualcosa o qualcuno sta lavorando contro i vostri piani e contrasta i vostri desideri. Essa mostra che i vostri sforzi e le vostre idee non stanno dando alcun risultato perché qualcosa o qualcuno le sta congelando, trattenendo o bloccando. Quindi questa è una runa che è legata anche alla stagnazione. Molto spesso questa runa porta frustrazione alla persona che la estrae perché ci si fa sentire come se fossimo senza strumenti per reagire. Ci si può sentire quindi inclini a cambiare i propri obiettivi o a smettere di perseguirli, ma la runa del crocevia non ti dice di rinunciare, ti dice di cambiare la strategia, perché il percorso in questo momento è bloccato, ma ci sono altri modi per raggiungere lo stesso obiettivo. Fate attenzione a non mettervi in una posizione da vittima. Quando viene estratta il crocevia significa che avete bisogno di molta forza di volontà per ottenere quello che volete. Spesso dovrete provare e riprovare prima di ottenere un risultato. Tutto evolverà molto lentamente. Si possono presentare periodi di solitudine, di isolamento e di mancanza di sostegno. Questo è un vero test per misurare la vostra forza interiore e la resistenza. Conflitti, incomprensioni e opposizioni sono parte di questa runa. Può anche rappresentare semplicemente situazioni fuori dal vostro controllo. In una luce più positiva, il crocevia è sinonimo di saggezza, di disciplina, di coraggio e di capacità di andare avanti, diventando sempre più forti. Vi aiuta a capire le perdite e le limitazioni. Nelle relazioni, la lettura di questa runa rappresenta un collegamento karmico tra le persone coinvolte. Se il rapporto agli inizi, probabilmente non andrà molto lontano. O sarà assegnato da incomprensioni e controverse. Relazioni passate che ancora permangono, avranno ostacoli emotivi molto elevati che verranno rappresentati da questa runa. Grazie a tutti.